Ciao a tutti e bentornati per un nuovo video sul mio canale youtube di Easy Trading Partiamo subito come al solito a parlare della situazione dei mercati in generale visto che ieri non abbiamo fatto alcun aggiornamento, almeno via video, ho fatto soltanto un post e andiamo subito a vedere cosa sta succedendo sul Nasdaq e che cosa è successo ieri Allora eccolo qua il Nasdaq, come potete vedere il Nasdaq ieri ha recuperato questa candela qua vedete dopo una forte discesa iniziata durante la notte ha poi recuperato tutto quello che aveva perso per chiudere poi addirittura in positivo dell'1,60% stamattina il future già è positivo, siamo intorno allo 0,63% e per il momento diciamo si prospetta un'apertura in rialzo stessa storia è successa anche per lo standard pur, andiamo a vedere le S che è il future dell'SP500 come potete vedere anche ieri stessa storia, grande candela di indecisione dove siamo andati addirittura a toccare la media a 50 periodi siamo tornati sopra la media a 200 periodi e sopra il livello dei 3000 allora guardate che è molto interessante questa cosa perché io l'altro giorno vi ho detto una cosa e avevo detto crash dei mercati ma sarà stato un crash vero o un crash pilotato? perché innanzitutto il crash si è fermato su livelli tecnici abbastanza interessanti inoltre quando è partito il crash? è partito in contemporanea diciamo con la chiusura della conferenza di Powell quindi con le parole di Powell e in più una serie di dati negativi su quanto riguarda la curva dei contagi negli Stati Uniti e non solo perché anche in Cina e in Giappone diciamo stanno aumentando di nuovo i contagi quindi cos'è successo ai mercati? i mercati ovviamente hanno iniziato a fare quello che hanno fatto già qualche settimo qualche mese fa, un paio di mesi fa e quindi a scendere pesantemente cosa è successo ieri? ieri a un certo punto eramo arrivati qui sotto più o meno a questi livelli qua e la Fed è intervenuta è intervenuta come? è intervenuta promettendo di acquistare i prestiti richiesti dalle aziende ok? sul mercato e quindi di utilizzare il fondo che doveva essere utilizzato per gli etf al momento poco usato di 250 miliardi di dollari per appunto dare sostegno a queste aziende ovviamente era quello che il mercato si aspettava era quello che gli investitori si aspettavano ma si aspettavano già dalla conferenza di Powell tutto questo ovviamente cosa ha scatenato? ha scatenato nuovamente ottimismo liquidità sul mercato che è la cosa a cui gli investitori ovviamente vanno dietro e quindi le borse sono tornate indietro e di nuovo sono tornate a salire e adesso se guardiamo bene questo grafico questo è lo standard pull ma torniamo un attimo sul Nasdaq che è quello che poi alla fine oscilla un po' di più vedete che dal punto di vista tecnico comunque siamo ancora sopra la media a 21 periodi vedete quello che vi dico io da molte settimane è che finché restiamo sopra questa media a 21 periodi questa viola il mercato continua ad essere rialzista questa notte in più anche la banca del Giappone ha detto che aumenterà le risorse a supporto dell'economia e quindi nuova liquidità sul mercato abbastanza pesante perché parliamo di circa 1000 miliardi di dollari se non ricordo male e per cui insomma 110 milioni 110 mila milioni di yen o qualcosa del genere però adesso non ricordo bene il cambio però detto quello quindi mercati di nuovo drogati dalla liquidità come al solito economia e finanza viaggiano separate quindi i mercati hanno scavato una vera e propria fosse una vera trincea tra l'economia reale e quello che succede sui listini e quindi si torna a salire e questo è diciamo il side effect di tutta questa liquidità immessa sul mercato che prima o poi qualcuno dovrà anche cominciare a considerare per il momento però si sale e finché si sale va bene così tutti contenti un'altra cosa di cui vi voglio parlare è la sterlina perché? perché è uscita una pubblicazione di una delle tante società di analisi che continua a vedere la sterlina con un outlook negativo e quindi con una certa svalutazione questo perché? perché a dire insomma di questa società che adesso di cui non ricordo il nome UK dovrà indebitarsi e di tanto anche quindi questo porterà un po' di disagio sulla moneta inglese detto questo andiamo a vederci un attimino un po' di coppie allora qui siamo su CHFJP una coppia molto interessante questa sono due monete forti quindi stiamo parlando del franco svizzero e dello yen giapponese quindi due monete estremamente forti ma anche due monete che è una coppia che tra loro oscilla di molto guardate da qualche mese la coppia è intrappolata in questo canale che va da 109 a 114,500 che non è poco è un bel divario però continua a rimbalzarci dentro vedete? in un modo o nell'altro in maniera abbastanza quasi imprevedibile comunque continua a starci dentro e qua io mi sono messo un paio di allarmi più o meno in zona 112 e a 111 perché mi aspetterei che lo yen perda un po' di forza rispetto al franco svizzero e possa tornare o qui o qui per poter poi entrare long e staremo a vedere quello che invece volevo farvi vedere è euro gbp eccolo qua andiamo subito a guardarci euro gbp allora perché? perché io avevo guardato sul quattro ore come qualcuno di voi mi aveva suggerito la formazione di un test a spalle adesso andiamo a vederci un attimino il grafico sul quattro ore e vediamo cosa succede allora allora come vi dicevo guardate oggi la candela di oggi vedete che si si scommette sul fatto che la sterlina si stia perdendo forza e quindi malgrado un euro non particolarmente forte in questo momento potrebbe essere sicuramente più forte della sterlina e vedete che diciamo il tipo di scommessa su cui si stanno concentrando in questo momento gli investitori è cercare di portare la coppia verso l'alto quindi l'euro più forte rispetto al dollaro e quello che in effetti io mi aspetterei su cui io sono dentro con un trade da qualche giorno è che il rapporto euro sterlina possa salire e portarsi intorno a quest'area qua adesso perché mi rispetto questa cosa in realtà come potete vedere guardate che negli ultimi giorni diciamo è stato molto controverso il bilanciamento tra euro e sterlina vedete oggi per esempio è partita con una bella candela verde dopo che ieri è arrivata a toccare qua proprio la media a 50 periodi qui siamo sul time frame a 4 ore oppure se volete questa neckline allora vedete cosa ho disegnato qua qua ho disegnato un testa e spalle di inversione vedete allora è un po' tirato devo dire perché vedete che la testa qui non è esattamente sopra questa spalla qua però qualcuno di voi mi aveva detto guarda su 4 ore ci potrebbe essere un testa e spalle ribassista allora togliamo un attimo il nostro testa e spalle ribassista rialzista lasciamo la neckline per il momento allora se fosse stato vero quindi stavamo dicendo un testa e spalle ribassista quindi prendiamo dallo strumento di trading view prendiamo lo strumento per misurarci il testa e spalle allora vediamo questa è la testa che è più alta di queste spalle quindi misuriamo le spalle supponendo che questo sia l'inizio della spalla sinistra andiamo qua andiamo qua questa è la testa ok andiamo qua se questa qua questo spike qui vabbè diciamo che non è non vogliamo prendere lo spike prendiamolo qua questo è la neckline questa è la spalla destra e la chiudiamo qua ok allora questa neckline qua vedete questa neckline qua se dovesse essere rotta al ribasso quindi ve la traccio ok supponiamo più o meno da qui così ecco più o meno adesso l'ho disegnata male però questa neckline qua che va da qui a qui e torna giù se dovesse essere rotta al ribasso allora sarebbe veramente un segnale di inversione e questo testa e spalle potrebbe anche avere un senso perché qui abbiamo dei volumi vedete qua su questa testa abbiamo tuttavia dei volumi qua su questa spalla e abbiamo dei volumi molto più bassi però qui sulla spalla sinistra quindi non è un vero e proprio testa e spalle classico inoltre il prezzo anziché tornare indietro per il momento è riandato verso l'alto e quindi sembra più dover rimbalzare su quest'altra su quest'altra neckline che vi ho disegnato adesso guardate se ve lo disegno al contrario prendiamo stavolta il giallo e supponiamo che come vi avevo detto prima questa sia la testa questo spike qua ok? quindi questa è la spalla quindi partiamo da qua andiamo qui questa è la spalla ok? poi andiamo qua e poi andiamo qui questa è la testa e poi andiamo qua e poi andiamo qui e misuriamo qua eccola qua allora come potete vedere in questo modo io ho disegnato una neckline vedete e al momento vedete che qui il prezzo ha superato questa neckline ok? e ci sta insistendo e qui ci sta rimbalzando quindi la mia idea è che se ci deve essere un testa spalle quello più probabile potrebbe essere quello invertito ok? e se fosse così e se fosse così allora questo qua potrebbe essere un rialzo un testa spalle da rialzo e quindi la prosecuzione del trend rialzista potrebbe ripartire da qui e andare verso questi livelli ora questo ovviamente stiamo parlando di teoria perché l'analisi poi ognuno la vede un po' come vuole quindi se avete dubbi domande lasciatemi anche i vostri commenti i vostri pareri cosa ne pensate perché non è detto che io c'è zecchi anzi io spesso e volentieri magari sbaglio anche nessuno è perfetto ma io non devo fare l'indovino devo cercare di capire come può evolversi un mercato come può evolversi un movimento di un grafico quindi in questo momento diciamo che abbiamo queste situazioni qua allora cancelliamo un attimino questo qua ribassista e lasciamo questo rialzista in più ci possiamo andare a guardare un attimino magari i volumi prendiamo l'intervallo fisso allora visto che siamo guardate qui tra l'altro c'è anche una specie di triangolo vedete questo triangolo qua ha disegnato tanto bene queste due righe questo è un triangolo che in questo momento messo così potrebbe essere di continuazione rialzista ok saremo a vedere allora per il momento diciamo stiamo rimbalzando su questi livelli qua allora andiamo a prenderci allora vediamo un po' da dove possiamo partire partiamo da qua e ci tiriamo l'ultimo spike qua ok e vediamo dove si trova il nostro POC per il momento sul lungo termine qua partiti da 14 maggio eccolo qua il supporto il supporto che vediamo esattamente qui a 0,89 quindi se dovesse tornare ancora indietro ci possiamo aspettare che qui ci sia possa sentire questo livello di prezzo e possa tornare verso l'alto andando a misurare le cose un pochino più strette quindi partiamo da qui dall'ultimo vedete che qua abbiamo su questi rialzi qua anche se questo in realtà è un rialzo poco reale partiamolo qua dall'ultimo rialzo non misuriamolo bene però ecco da qui ok vedete che anche qui su questo ultimo rialzo qua il POC è sempre qua intorno a 0,89 non ho preso questo perché vedete qua c'è un livello di indecisione quindi cosa possiamo fare al limite molto molto in maniera molto molto brutale prendiamo lo tiriamo fino all'ultima candela e prendiamo questo e lo misuriamo oh ho sbagliato vabbè togliamolo che adesso ci dà fastidio e prendiamo questo e lo portiamo più o meno qui ok vedete che qua c'è un livello di indecisione abbastanza ampio con questo piccolo accumulo questo cluster qua che sembra un cluster di accumulo vedete quindi bisogna vedere adesso se rompe verso l'alto la quota di 0,89 e 75 può esserci la conferma di un effettivo rialzo quindi ci sono diversi segnali cioè sono due testa e spalle uno che fa il contrario dell'altro ma uno di continuazione rialzista poi abbiamo un triangolo convergente vedete che comunque è un triangolo di continuazione di un trend rialzista volendo e poi abbiamo questo POC qua proprio in questo livello qua che se viene rotto e lo porta e conferma la chiusura della giornata con la rottura potrebbe portare il prezzo verso l'alto inoltre se proprio vogliamo fare diciamo il pelo nell'uovo o così dire ci andiamo a vedere su un time frame più basso quindi magari andiamo sui 30 minuti andiamo a vedere i livelli dei volumi per le singole per i singole sessioni vedete siamo effettivamente tra guardate l'ultima sessione che è questa qua che ancora non ha finito di formarsi che ha un livello di volume insorno a 0,8972 l'altro che si è finito di formare e prolunga il suo livello di volume siamo a 0,8992 quindi in questa zona qua si combatterà la battaglia oggi per andare verso l'alto o meno vedremo staremo a vedere per il momento il mio outlook che rimane rialzista torniamo su un time frame quindi giornaliero e rimettiamolo anche in maniera un pochino più ulita torniamo un po' di segnalazioni qui poi il testo e spalle lo ridisegno dopo e andiamo a vedere GBP nei confronti di USD allora guardiamo un po' guardiamo un po' allora vedete che il dollaro in questi giorni è un pochino sofferente e la sterlina in questo momento continua a essere come dicevo prima potrebbe entrare in sofferenza ancora di più e vedete però che il rapporto diciamo tra queste due valute che sono molto molto comunque sono molto molto tradate dalle banche soprattutto perché sono 10 le banche mondiali che muovono il mercato del forex più o meno 7-8 banche se non vi ricordo male e sono guardate io qui mi sono messo questo allarme intorno a questi livelli qua vedete perché ho detto se il dollaro si svaluta ancora di più potrebbe effettivamente scendere e dare poi una spinta rialzista alla coppia nel caso la sterlina prenda forza ma in questo momento vedete qui abbiamo la sterlina che è il principale diciamo al denominatore e il dollaro che è a destra e quindi in questo momento sta rialzando la sterlina anche se non di molto però guardate che ha sentito qua sul giornaliero la media a 200 periodi ed è tornata un pochino indietro e questo è interessante quindi in questo momento diciamo è incastrata tra la media 50 e la media 200 io mi aspetto che possa tornare indietro anche se il dollaro in questo momento non è particolarmente forte però staremo a vedere questa sarà un'altra coppia interessante da andarsi a vedere con più con un pochino più di accuratezza qui abbiamo sicuramente una una trendline vediamo un po' se la possiamo disegnare ecco qua guardate abbiamo questo livello di trendline su cui la coppia vedete che ha insistito diverse volte e su cui tra l'altro potrebbe insistere ancora e si incrocia anche con la media a 50 periodi e quella a 200 periodi continua tra l'altro a rimbalzare sulla media guardate qua a 21 periodi quindi una coppia che si comporta in maniera abbastanza diciamo prevedibile per il momento se ci vogliamo andare a vedere anche un po' di livelli di volumi prendiamo il nostro il volume di prendiamo il nostro intervallo fisso lo misuriamo da qua e lo andiamo a vedere sull'ultimo spike e vedete che cosa ci dice prendiamo il tick ok guardate che bel cluster guardate com'è bello marcato qui c'è uno scambio di volumi molto molto interessante quindi a questo livello qua a 1.23 allora facciamo così io mi alzo la mia quota di allerta eccolo qua lo salviamo anche e qua potrebbe succedere qualcosa quindi c'è da scommettersi se il dollaro prende forza sulla sterlina si torna su questi livelli e qui si potrebbe potrebbe esserci un rimbalzo poi non è detto che questo succeda perché vedete qua per esempio è stato rotto poi è tornato su e poi ci potrebbe tornare indietro e poi potrebbe tornare su di nuovo anche se tendenzialmente se la sterlina si svolta potremmo andare verso questa direzione di qua molto bene per il momento è tutto oggi abbiamo guardato più che altro come stanno andando i mercati cosa si prevede sui mercati e abbiamo visto un po' di forex perché in questi momenti di incertezza e di alta volatilità il forex ci dà qualche opportunità in più andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sul petrolio il petrolio che dopo le discese degli ultimi giorni si sta un po' stabilizzando siamo ancora intorno ai 37 dollari sul contratto di luglio l'oro qui siamo sul 2 ore portiamoci un attimino sul giornaliero e togliamo un po' di righe ecco qua magari togliamo anche gli oscillatori l'oro continua ad essere come vedete in questa fase in questo canale molto molto incerto però un pochino ha recuperato rispetto alla discesa di ieri dove si era portato intorno a 1,7 e 0,4 qua io ho diverse posizioni aperte e sono tutte rialziste ve lo dico giusto per informazione non è che nessuno deve copiare quello che faccio io perché ripeto dovete ragionare con la vostra testa perché non sapete quali sono i miei livelli di rischio il mio money management dove io ho i miei stop loss i miei take profit quindi se non copiate quello che faccio io se non siete sicuri di quello che state facendo guardiamo un attimino bitcoin bitcoin che ha risentito guardate ieri della discesa dei mercati ed anche l'altro ieri si era portato addirittura intorno a 8,8 adesso si è riportato sopra e per il momento usa la media 50 periodi come supporto dopo aver rotto la media 21 periodi che aveva usato come supporto per un po' di tempo adesso sta usando la media 50 periodi siamo a 9,5 e questo ci fa ben sperare per il proseguio diciamo dei prossimi mesi bene per il momento è tutto io non ho molto altro a dirvi abbiamo fatto un video abbastanza lungo e se ci sono domande se avete dubbi se volete iniziare qualche discussione qualche cosa da chiedere fate pure lasciate dei commenti iscrivetevi al canale mettete un like se vi piacciono i miei video selezionate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e come sempre stay tuned and finger crossed ciao a tutti ciao a tutti